Non siamo giuntori del Covid e chiediamo solo di poter lavorare e di non dover subire un'ulteriore limitazione nel nostro lavoro. Bene le restrizioni e le misure anti-Covid, ma non è pensabile di fermare le attività produttive e mercatali. È l'appello lanciato dall'Amba Campania, l'Associazione dei Venditori Ambulanti, in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo l'ultima e tanto discussa ordinanza regionale numero 75, dove viene disposto anche che resta sospesa l'attività di sagra e fiere e in generale ogni attività ed evento in cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e compostazioni fisse. L'unica regione in cui i comuni non hanno autorizzato alcun tipo di manifestazione è proprio la Campania, ha chiarito ai nostri microfoni il Presidente Provinciale di Salerno del Lamba, Ciro Pietro Fesa, che auspica una convocazione del Governatore De Luca per una valutazione congrua della situazione. Ancora una volta il commercio su aree pubbliche rimane penalizzato. Vorremmo partire analizzando quanto scritto in questo punto, parlando di sagra e fiere. Come è noto a tutti, ha ribadito più volte Pietro Fesa, non siamo a conoscenza di casi di contagio nei mercati che ad oggi restano i luoghi all'aperto del commercio più sicuri. La finanza nella parte finale è un po' confusionaria e quindi ha dato il via a svariati sindaci a chiudere i mercati, quello che sta già accadendo nella zona dell'Avellinese. E noi riteniamo che questa cosa ci stia penalizzando in modo tale da mettere realmente a rischio le nostre imprese. Questa è un'interpretazione dei sindaci o a suo avviso l'ordinanza recita proprio lo stop dei mercati? Che cosa è diversa dalle fiere e dalle sagre? Si dovrebbe interpretare, ma se si fa un ragionamento di interpretazione nella direzione, così come è scritta nella ordinanza, si dà la possibilità ai sindaci di sospendere i mercati. Già veniamo da un 2019 disastroso, poi ci mettiamo anche il fatto che non abbiamo la serenità di poter scendere a lavorare, quindi non ci sono acquisti da parte degli operatori. Questo sta portando la clientela ad andarsi, ad approvvigionarsi in altri luoghi, non più nei mercati. Avete scritto una lettera al governatore De Luca come Amba? Abbiamo scritto come Amba regionale e come Confeso Arcendi regionale, a firma mia e del Presidente Schiavo, una lettera indirizzata al governatore. Noi vogliamo essere convocati, vogliamo essere sentiti su queste questioni. Non è possibile fare un'ordinanza senza avere dei dati. Non c'è stato un caso accertato di Covid nei mercati, non c'è stato un contagio di Covid in quelle poche manifestazioni fatte. Sia i mercati sia le poche manifestazioni fatte hanno rispettato tutti i protocolli di misura anti-Covid. Siamo stati attenzionati dalla Polizia, abbiamo ricevuto controlli più volte da parte degli organi competenti e ci hanno trovato sempre in regola. Vanno bene le restrizioni, vanno bene le misure anti-Covid. Le vogliamo rispettare, ma dobbiamo lavorare. Noi siamo un settore produttivo importante in Campania, contiamo 30.000 imprese, abbiamo un indotto che arriva fino a 70.000 persone che girano intorno al nostro lavoro. Non possiamo rimanere fermi. Un altro fermo per il nostro lavoro significa chiudere tutte le attività. Un altro fermo per il nostro lavoro.